Scarica l'app di Juventus News 24, informazione sportiva 100, 100 bianconera. Sì, 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 sono sempre d'accordo con lui, solo che oggi Mario nel primo tempo non ha fatto una bellissima partita, perché ho sbagliato, ho fatto qualche errore tecnico di troppo e poi non trovo tanto la posizione in campo. Invece nel secondo tempo mi sono sentito molto più a mio agio, sia a livello tecnico che a livello di intensità. Sono contento di questo e comunque mi dà sempre consigli in allenamento e anche in partita, da prima a secondo tempo, di come posizionarmi in campo e tutto. È stato bellissimo, soprattutto perché siamo contenti del ritorno di Pogba, per lui sarà stato un momento difficilissimo questi 7-8 mesi dove è stato fuori dal campo, e ora noi ce lo godiamo perché è un ragazzo bravissimo ed è un fenomeno in campo. Noi ci mettiamo obiettivi minimi ogni partita e questo era sicuramente un obiettivo, vincere il derby perché dà morale all'ambiente, a tutti, e per noi l'obiettivo era quello di agganciare Bologna, che era sopra di noi, siamo riusciti e ora pensiamo alla partita con la Roma. Sicuramente a livello di intensità in campo, questo penso sia stato il miglioramento più grande che ho avuto. Noi guardiamo l'obiettivo minimo che è sempre superare quella sopra di noi. Ora 10 punti sembrano tanti, però pian piano noi dobbiamo pensare partita dopo partita, vincere e sperare che le altre facciano meno punti possibili e poi vedremo a fine anno che classifica avremo.